Bentornati su mobile, ma anche su GDC, anche su giochi fantasma, perché ci troviamo davanti a una cosa speciale, spettacolare. Ricordate che tempo fa io ho fatto quella puntata dove parlavo malissimo delle pubblicità ingannevoli sui videogiochi per smartphone, soprattutto quelle di Hero Wars, che erano molto ingannevoli e puntavano anche molto sulla misoginia, su ste cose qua. Ecco, adesso si sono ravveduti, più o meno, però che hanno fatto? Visto che tutti si lamentavano che il gioco Hero Wars non era assolutamente come le pubblicità, era completamente diverso, una specie di gioco a turni, di combattimento, allora hanno fatto un altro gioco che si chiama Hero Wars... Che devo fare? Devo rompere i cateni. E ci hanno messo... Ecco, vedete, ci hanno messo i minigiochi più simili a quelli dell'Archea, cioè il gioco è sempre la stessa cosa, ragazzi, è sempre Hero Wars, però ci hanno messo più di questi minigiochi qua che imitano quelli della pubblicità che in realtà non esistevano, capito? Ma ve la spiego, allora Hero Wars era un gioco tipo di combattimenti a turni bruttissimo, uno dei quelli lì che devi spendere i soldi per andare avanti, ok? E le pubblicità si sono inventate, le pubblicità erano inventate, mostrarono del gameplay che nel gioco per proprio non c'era. Poi hanno fatto dei minigame simili a quelli delle pubblicità per far sapone alle persone, questa cosa l'ho spiegata anche nel video vecchio, e ma hanno fatto un gioco che teoricamente è fatto tutto con i minigiochi copiati dalla pubblicità, ok? Hanno fatto il percorso inverso. Ma in realtà vediamo se è vero, oppure se è una solita fregatura. Ok, ho preso, sono a 10, 17, qui vabbè questa è una stupidata. Qua non c'è da scegliere, devi solo premere su praticamente. Andiamo qui. Su minigame l'abbiamo finito. Ok, no, ero sbloccato. La scena intermezzo non ha nulla a che vedere con lo stile del gioco. Galad. Ovviamente il ciclo Brennetton si sta incazzando. La mia casa dominiona nel griff dell'Arcidemone. Andiamo, non possiamo perdere tempo. Ok, quindi dalla torre distrutta dobbiamo andare al demone. Ecco, Hero Wars Alliance. Vediamo un po'. Vedete? E ricomincia il gioco con la turnica una merda, come Hero Wars quello vecchio. Hero Wars era tipo così. Vediamo se ci sono gli altri minigame. Oppure se è una truffa come al solito. Ok. Abbiamo sbloccato questa specie di mietitore che si chiama Astaroth. Si è unito a noi, credo. Ok, adesso c'è quest'altro demone che sta a casa qua. Dobbiamo raggiungere la casa, la vecchia casa del tizio qua. Ecco, il nostro Partimo sono due personaggi. Funziona esattamente, in maniera esattamente identica a coso, come si chiama? Quell'altro giocaccio, Ride Shadow Legends. Insomma, funziona in maniera molto simile a Ride Shadow Legends questo. Avrete capito? Solo che quella è in 3D, questa è in 2D. Però gioco più o meno la stessa schifezza. Cioè, il gioco che si gioca da solo è che a un certo punto devi sganciare questo. Allora. Vediamo se non ti piacerà. Non lei chi... Ecco, mo' chiamano un altro personaggio. Per sconfiggere la città non dobbiamo dimenticare il passato. Questo qui in teoria dovrebbe essere il sequel. Non so perché, devo che lo chiude qua. Che devo fare qua? Crypta di Morrigal. E qua dovrebbe esserci un altro gioco. No, sempre il gioco della torre. Che comunque già c'era in Iro Wars. Perché l'avevano introdotto in un secondo momento. Ma devo uscire tipo qua, sul 4. Lo metto qua. Cioè, veramente è stupido sto gioco, eh. Visto che quello della pubblicità era troppo stupido. Qua hanno cercato di farlo un po' più intelligente. Hanno fatto che ci siano più nemici in un singolo slot. E tu devi fare la somma prima di buttarci il tuo personaggio. Se no, lui schiatta, ovviamente. Devi fare un minimo decalcolo prima. Cosa che invece nel gioco della pubblicità non c'era. Quando hanno fatto il gioco vero e proprio ci hanno aggiunto sta cosa. Se no era troppo... Tipo 7 più 4, 11. Se vado qui sulla seconda, muoio. Ok? 7 più 3, 10. 8 ce la faccio. Poi diventa 18. Ce la fa. Quindi questo qui devo fare prima. Con 18 lo faccio qua. Lo posso fare questo. Lo posso fare questo. Vedete? Ma rispetto a quello della pubblicità è un pochino più intelligente il tuo gioco. Perché devi fare un minimo decalcolo. Per capire qual è la stanza giusta, lo slot giusto in cui devi entrare. Altrimenti muori. Invece nella pubblicità era stupido. C'era solo il numerino base. Non dovevi fare nessuna somma. E non c'era senso come gioco. Però uno guardava la pubblicità e diceva Eh, io sarei capace di farlo perché è facile. Perché questo che sta giocando non ce li riesce. Capito? Le stupidate. Così la persona non troppo sveglia è portata a scaricarlo il gioco, no? Allora, 9 più 3 e non va bene. 12, quello con 14 non va bene. Ok, 9 più 7 è 16. Quindi devo andare da qui. Andiamo qui. Ok, ma c'ho 65, posso farlo benissimo. No, c'è l'80. Vedi che sto cretino? Non ho visto l'80. Avevo visto il 50, ho detto tanto quello a destra è quello più forte. Invece no, stavolta quello più forte stava in mezzo. Quindi ho sbagliato. E devo rifare il livello. Mamma mia, la miseria. Stavolta andiamo sotto, tanto è uguale. Dov'è, vai, qua. Adesso è un po'. Mi sa di fare quello con 120 alla fine, giusto? No, aspetta. 65 più 30 fa 95. Ok. Poi 105. Sì, c'è questo qui. Andiamo qua. C'è un po' più senso rispetto a quello della pubblicità. Infatti prima ho sbagliato pure, cosa che sarebbe stata impossibile sbagliare con il gioco come quello della pubblicità. Abbiamo ammazzato statizia e ora ce la prendiamo come alleato, immagino. Perché nella logica di questo gioco, se tu ammazzi una persona, poi non è che muore e fa sottoterra. No, diventa tuo alleato in questo gioco. Eccola qua. Ok. Morgan. che incidentalmente c'è lo stesso nome della succubus di Darkstalkers, il gioco della... o Vampire Savior, il gioco della Capcom, il picchiaduro famoso degli anni 90. Ok, andiamo avanti. Resisti Aurora, sto arrivando. Stiamo arrivando. Chi è Aurora? Non lo so. Chi è sta Aurora? Qua è sempre il solito gioco. Di Pippo Po che devi aspettare. Va tutto da solo. Solo quando si riempie una barra la devi cliccare per poter fare l'attaccone di ora. Boom! Ma questi non morono. Il gioco che si gioca da solo, una minchiata del gioco. Abbiamo uno scrigno gratis. Ovviamente poi per aprire gli altri bisognerà sganciare. Intanto ci ha dato una... una elfa nera, eccola qua, che si chiama... Thea. Thea. Ok. Guardiano, ti evoco per combattere contro il male! Eh, ma che vuoi? La goleggia del vecchio boschetto ha risposto alla tua chiamata. Galacta, che piacere vederti. Vedo che sei più forte. Perché non cominciare a schiacciare un fastidoso scheletro della cripta giusto per riscaldarti? Allora, vediamo un po' se ci sono... Oltre la... Fino a ora solo la torre abbiamo visto dei... Ecco, ora possiamo uscire. Aumenta il potere dell'eroe. Risorgere un po' se l'emico ha le torri. Oppure guadagna ricompense. Però un po' aumenta il potere dell'eroe. Tana del dra... Eh no, ma sempre la torre... C'è solo la torre come minigame. Spero ci sia anche altro. Perché veramente... Il gioco ci sta prendendo per il culo in una maniera clamorosa, eh. Ok. 50 pari vinciamo noi? Sì. Ok, a parità quindi... A parità di forza vinciamo noi. È già positivo da sapere. Io sono curioso se c'è un altro minigioco. Perché il gioco lì che c'è, sai, il labirinto. E devi cliccare sui nemici. E poi c'è la gigantessa. Tutta quella roba lì non c'è qua. Vediamo se l'hanno messo. Perché la pubblicità di questo gioco... Prende Hero Wars ma... Con la mano... Con il make-up rifatto. Eh... Ti diceva... Eh... Finalmente... C'è un gioco che ho guardato le pubblicità. Sì, corcacchio. Io lo sapevo che era una scammata. Che era una fregatura. Il gioco sta diventando ancora più facile. 101. De uno lo battiamo. Il troll, infame. Ok. Scuotiamo. Ci sono altre torri da fare. Pieno le torri qua. Però questo gioco delle torri sicuramente... È più divertente di fare quell'altro. 5... Allora... Dio un po' con 12... 7... 85... Dobbiamo andare questo, me sa. Ok. Ok, ora ci abbiamo 58. Con 58 possiamo andare qua sotto. Ok, 75... 79... Con 79 dovremmo riuscire a... Ah no, per uno perdo. Perché vado a 89... 99... Cioè... E vaffanculo. Lo sapevo io che c'era la frega. Eh, vedete? Perché non ho fatto il calcolo. Sono andato a occhio. E mi sono fregato da solo. Allora, riproviamo. Ok. Andiamo qua sotto. Quello da 100 no, alla fine, eh. Dobbiamo far prima questo qui da 85. Ok. Ecco fatto. C'è l'ultima torre da fare prima di aprire il forzierone. Andiamo ad aprire sto cacchio di forzierone, no? Andiamo. Queste sono due torri addirittura. Ci abbiamo un 13. Quindi 13 più 5 è 18. Però poi con il 55 ce la facciamo. 18. Allora, dove fa prima questo? Andiamo qui. Andiamo qua. Andiamo qui. Questo è super facile. Poi sotto. Già siamo sopra i 400, quindi andiamo tranquilli. Ok, 993. La fregato è che poi sto potere poi non ti viene trasportato negli altri livelli. Finito il livello, ritorna a zero come un cretino. Ok. C'è lo scrigno. Che dobbiamo fare per aprire lo scrigno? Ah, c'è l'ultimo livello. C'è un dragone. Attenzione, da mille. Il dragone ha mille di forza. Allora, 14 più 6 è 20. Con il 21 non ce la facciamo. Dobbiamo andare prima qua. Andiamo sotto. Andiamo sopra. Andiamo qua. Allora, 160 più 36 più 30. Sì, dobbiamo far prima qua il troll. No! Il troll c'è fregato. Eh, non ho fatto il calcolo. Vado a occhio senza fare il calcolo. Non mi frega. Riproviamo. Che figura di merda. Per l'ennesima volta. Ecco, in questo momento voi starete... E come nelle pubblicità voi state direndo Eh, vuoi fare così? Come fa chiunque guarda le pubblicità di questi giochi, no? Però nelle pubblicità è più facile il gioco. Perché non ci sono da fare le somme. Ci sono sempre solo i numeri. Quindi è una cazzata. Allora, quindi dobbiamo fare quello sopra? Questo qui è 45, eh? Ok, ma fanno questo. Andiamo qua. Mo' superiamo abbondantemente i mille. Andiamo a mille e tre quasi. Vediamo il dragone di ossa. L'abbiamo sfondato. Ok, continuiamo. Adesso abbiamo aperto lo scrigno. Cosa c'è dentro? Aprite. Altra roba che non me ne frega niente. Andiamo a vedere adesso se è possibile. Torniamo alla campagna. Vediamo se è possibile vedere altri minigame. Ok. Le mazzate. Sa pure la principessa Zelda, più o meno. Ok, Lilith ha sparato una cosa. No, non si chiama Lilith. Si chiama Morrigan. Fermati, Galad. Il marchigine oscuro ha imprigionato Aura. Stai lontano per liberare la domenatura di tutte le chiavi. Aspettami qui. Donnerò a prenderti. Sconfiggeremo il male insieme. Ok. Quindi si spera che c'è un minigame. Col cacchio. Non c'è niente. Aspettami, c'è un minigioco con le chiavi. Mi sa che è quello che devi togliere gli spiedini. Deve essere una cosa del genere. No. È sempre un altro lielo che devi dare mazzare. Ma che palle. Aspettami un po'. Ho parlato a sparare la magia ma non c'è stato bisogno. Abbiamo preso una chiave. Mancano due chiavi. Eh ma i minigame del cacchio. Basta minigame. C'è solo la torre. Non c'è nessun altro minigame. Ragà. Perché era il più facile da realizzare. Quelli che ha la gigantessa. Le trappole. Le cose. La fisica. Qua roba non c'è qua. Non c'è. Ok. Mo' tocca a Galad. Seconda chiave è niente. Sì. Seconda chiave è ma anche l'ultima chiave. E poi dopo dobbiamo andare dal demonazzo. Mi fa chiudere per forza. Pure se non voglio. Qua dobbiamo potenziare la gente. Potenziamo sto Galad. Ho equipaggiato la roba. Abbiamo elevato del livello. Che poi tutte queste cose le fa fama sui nuvi. Cioè nel senso. Se fossero automatiche sarebbe uguale. Sarò meglio. Potenziamo un po' le sue. I suoi poteri. Andiamo pure a potenziare un altro personaggio. Che ci sta simpatico. Tipo Astaroth. Mi sta simpatico. Voglio potenziare il suo velo di fiamme. Equipaggiamo un po' le roba. Vediamo un po' se riusciamo. Manca un oggetto per elevarlo a lui. Però il velo di fiamme lo potenziamo ulteriormente. Poi questa qui. Vediamo un po' se possiamo. Non può. Ci mancano i dadi. Però intanto il suo potere lo potenziamo. E basta. Andiamo da Morrigan. Niente. Lei c'è poca roba. Però anche lei la potenziamo un po'. Come i poteri abbiamo. Cioè solo lui abbiamo potenzionato come personaggio Galad. Gli altri abbiamo potenzionato solo i poteri. Alla fine. Allora continuiamo la campagna. Che c'è nello screen eroico? Tocca a comprare. Io non voglio comprare. Poi. Nel portale. Tocca a fare le torri. Non me va. Vediamo un po'. Torniamo alla campagna. Vediamo se riusciamo a finire. Almeno sto primo capitolo della campagna. Entro la fine del video. Vediamo se si riusciamo. Amogalad è più forte in teoria. Elefante ammazzate. Infatti. Ha falcidiato tutti. Senza bisogno di usare neanche i poteri. Proprio così. Andiamo avanti. Terza chiave non mi ha data. Forse sta qui la terza chiave. Intanto stiamo sbloccando nuovi pezzi d'armatura. Di equipaggiamento. Che non servono effettivamente a vederli sui personaggi. Servono solo a salita di livello. Adesso non funziona. Non è che tu trovi, che ne so, lo spadone e poi puoi mettere lo spadone a Galad. No. È uno degli oggetti che sarebbe a sbloccare poi il livello successivo d'esperienza. Ma non lo voglio aprire lo screen eroio. Vabbè è gratis. Apriamo. Phobos. Un altro personaggio si aggiunge alla nostra... al nostro party. Che è una specie di signore degli incubi. Phobos vuol di paura. Ok. Le pozioni ESP. Posso potenziarlo con le pozioni ESP. Quindi l'ho portato a un livello un po' più alto. E poi se riusciamo a... Anziamo un po' anche Galad. Quante pozioni c'ho? C'ho un botto di pozioni, raga. Famoso lì Galad. Famoso l'Ithea. Astraloth. L'Ithea. So a far salire tutti del livello, raga. Così. Andiamo in una campagna. Ho spiegato tutte le pozioni. Tanto... Questa puntata è in one shot. Non è che lo continuo, sto gioco. Quindi tanto vale... Potenziare tutto al massimo. Senza risparmiare nulla. È pieno dei demoni. Volevo usare il potere di Thea. Non mi ha affatto usare. Perché sono morti prima. Ok. E finalmente sblocchiamo la Zelda qui. E poi dobbiamo andare a combattere il demone. Eccola qua. La Zelda che si chiama Aurora. Ok. Grazie a Alas, so già mai io, ma non c'è tempo per parlare. Dovevo fermare Marax, che è il demone. Che un po' se riusciamo a potenziarla. No. Possiamo salire dei livelli. Lei già sta a livello 9, quindi già sta bene come livello. Intanto potenziamo Asteroth che stava lì, lì. Andiamo alla campagna. Andiamo dal demone. E gli fa un brommazzo. Ecco. Qua è diverso lo scontro. Vedete? È molto più... Stupido. Cioè, graficamente è molto peggio. Combattiamo a costarci demone. Ok. Ah no, era solo la mappa, tipo. Ok. Stolti, dice. Attenzione. Morgan è morta. Stavo per lanciare la magia di Morgan e me l'ha ammazzata. Gli lancio tutte le magie, ma guarda. Gli sto a lanciare tutte le magie di fila. Morgan è morta. È troppo tardi. Marax ha maledetto dominion. Dobbiamo sconfiggere tutti i comandanti del... Ma non l'ho... Ma se n'è andato? Serve il tuo aiuto di altri posso fidarmi. Seguimi Aurora. Libereremo i guardiani e salveremo. Ma è scappato il demone bastardo. Non l'ho ucciso. È fuggito. Non dà più niente soddisfazione sta cosa. E mo' parte il secondo... Il secondo mondo. E ovviamente... Non era... Allora ragazzi, non era vero quindi che il gioco era come quello della... La pubblicità, l'ultima che è uscita, diceva. Finalmente un gioco che è esattamente identico a quello delle pubblicità. Non è vero un cacchio. È uguale a Hero Wars normale. C'è sempre sto gioco del merda di autocombattimenti. Alla Ride Shadow Legends che fa cagare. In più ci hanno solo aggiunto le Tori. Ma le Tori già le avevano aggiunte al vecchio Hero Wars. Quindi... È una cosa vergognosa sto gioco ragazzi. Io mo' lo disinstallo che è veramente una chiarica. Io non lo so. Allora... Questo video non è sponsorizzato. Nel senso che nessuno mi ha dato sordi per parlare di sta merda di Hero Wars. E infatti ne parlo male perché è una merda. La mamma è nato. C'è pure la scimmietta demoniaca. Che è successo? Mi hanno ammazzato tutti. Mi hanno ammazzato chi ha la... Mortarci vostro. Mi hanno ammazzato tutti. Poi c'è una Tina malvagia. Che è uguale... La Thea malvagia. Che è uguale alla nostra Thea. Però è malvagia. Mi hanno ammazzato un incubo. Ragazzi il gioco è vergognoso. Vergognoso. Che devo fare qua? Imprese? Il nostro amico è potente. Che devo fare? Non voglio cambiare il nome. Che è qua? Imprese. Completa. Che devo fare? Evolvi. Fatta evolvi questa scema. Ma non ce ne frega niente. Che è imprese qua? Ah questi qui sono tipo gli achievement. Che te fanno salire. E vediamo un po' il ricalo segreto. Nella porta puoi solo andare nelle torri. Niente. Non c'è niente. Regà. Ovviamente ma c'è salita. Non c'è niente. C'è pure una bomba che se tu vai là ti leva l'energia. Però ce la fai uguale. Vabbè ragazzi sto giocando a zozzeria. È uguale a Hero Wars. Solo che gli hanno cambiato nome. Per cercare di farlo sembrare diverso. Dai c'è più roba. Mo ci sono tutti i minigame che seguono la pubblicità. Assolutamente no. È un'ennesima truffa. Di questi disgraziati che fanno Hero Wars. Non lo scaricate. Non ci spendete una lira con sta merda. E noi ci vediamo alla prossima puntata di GDC. Giochi del cacchio. Ma veramente del cacchio. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao. Ciao.